Ciao ragazzi ben ritrovati, allora notizia flash, appena uscito un video di Aris di Kuno Simulazioni che annuncia che lascia Kuno Simulazioni ringrazia l'azienda per i 15 anni incredibili passati appunto in Kuno Simulazioni esprime la sua credibilità nei confronti dell'azienda che ha potuto rendere reali i suoi sogni e che l'ha aiutato a diventare il professionista che è diventato ringrazia anche l'intera comunità dei simracing per il sostegno ricevuto in questi anni e in più, e questa è una notizia molto interessante oltre purtroppo al fatto che abbandona Aris Kuno Simulazioni che la stessa Kuno Simulazioni nel 2024 rilascerà per il simracing dei contenuti di altissimo livello dice che annuncia che ha lavorato duramente per preparare questi contenuti e assicura che saranno rilasci sorprendenti spiega che ha lavorato con i suoi clienti per creare una linea guida, tutorial, tutto necessario per colmare qualsiasi lacuna potesse lasciare appunto la sua assenza assicura sempre che Kuno Simulazioni continuerà a rilasciare contenuti di simracing di livello leader nel settore poiché è composta da un gruppo di professionisti altamente qualificati e appassionati riguarda la sua decisione di lasciare, diciamo, dopo 20 anni lavoro attivo nel simracing si sentiva che poteva fare di più e ha accolto un'opportunità per un progetto molto più grande che spera lo faccia crescere professionalmente rileva che il suo nuovo ruolo non sarà un progetto di simracing hardcore o in concorrenza diretto con la Kuno Simulazioni ma che lavorerà in un progetto ambizioso di metaverso supervisionando il reparto veicoli che include la creazione di veicoli l'interazione con il gameplay e l'utente oltre che al marketplace annuncia poi nel suo video che intende mantenere aperto sia la sua comunità di Discord che YouTube non è sicuro di quello che esattamente farà con il canale però è in programma di organizzare eventi di chat vocale, podcast, amatoriale, interviste mantenendo un ambiente intimo di amici che chiacchierano di auto, simracing e motorsport si scusa per, alla fine, il lungo silenzio spera che la gente rispetti la sua scelta professionale concludendo ringraziando tutti per i bei momenti passati insieme ecco perché questo lungo silenzio di sei mesi di Aris è comunque una brutta notizia per quanto mi riguarda perché Aris è sempre stato attivo con le comunità ha sempre formato le persone, ha cercato di spiegare eccetera soprattutto su assetto Corsa Compizione è un personaggio che ha dato tanto in questo mondo quindi arrivederci Aris grazie per quello che hai fatto tanti auguri per il tuo nuovo progetto e adesso sono curioso di vedere che cosa succederà in Kunos chi prenderà il posto di Aris e quali saranno le novità e dopo questa flash news ragazzi lasciate un commento ditemi che cosa ne pensate lasciate un pollice in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao